Ciao ragazzi e benvenuti in questo nostro nuovo video perché sia vostro sia mio ragazzi l'ho dovuto riregistrare perché ho fatto un fail assurdo praticamente avevo detto che era finita 2-0 invece è finita 3-0 la partita con Kuluseski, Bonucci e Ronaldo che alla fine era in sacca anche lui allora reso conto un attimino di Juve Samp, Juve dei vastanti ragazzi ha dominato in lungo e in largo la Samp ha avuto le sue piccole occasioni niente di che la Juve diciamo che ha creato a parer mio molto gioco sulle fasce e le due punte dovevano solo mettere dentro i palloni che arrivavano in qualche modo anche i centrocampisti visto che stavano dando una mano all'attacco mi è piaciuto molto come ha giocato la Juve oggi particolarmente proprio perché il gioco si andava a sviluppare molte volte sulle fasce quindi bravo Quadrado e a sorpresa Fabrato perché Pirlo ci sorprende con questa formazione con Mecchini addirittura subito titolare che ha fatto il suo non ha nemmeno fatto chissà cosa nemmeno schifo quindi ha fatto il suo poi poi basta nel senso i primi due gol sono stati un po' fortunati nel senso il primo di Kuluseski dove praticamente ha preso la palla era un difensore della Samp che non mi ricordo quale a Ronaldo e Kuluseski era lì di prima l'ha messa dentro comunque l'ha messo in modo intelligente e bravo il secondo gol anche lì parata di Audero finisce davanti al porta vuota Bonucci deve solo più spingerla invece Ronaldo nel terzo gol ha fatto comunque un bel gol glielo dobbiamo dire per il resto ragazzi un po' c'era un po' di scetticismo chi non si aspettava chissà che Juve chi si aspettava una grande Juve perché era Pirlo io in verità ero tra quelli in dubbio nel senso non lo so quanto poteva fare bene ma se è cominciato così può continuare ad avere una grande stagione Pirlo devo fargli complimenti perché ha sorpreso tutti quanti con questa formazione e una nota positiva anche di Shio che da quando che è entrato ma ha giocato quei pochi minuti che ha giocato li ha giocati abbastanza bene devo dire che proprio si sviluppa sulle fasce il gioco di Pirlo ecco parlando di Pirlo lui ha chiesto una punta effettivamente si capisce perché gli serve uno alla Icardi davanti in modo che gliela butti in qualsiasi modo dentro un po' come non so se vi ricordate il Drogba o anche solo l'Icardi all'Inter ecco probabilmente vuole una punta così Zeko effettivamente può essere una punta del genere un po' meno Suarez forse però Zeko se questo è il gioco della Juve si è la punta perfetta per questa Juve mi ha sorpreso Krusevski e Ronaldo nel senso che mi aspettavo con un Ronaldo un pochino meno Krusevski è quello che doveva creare il gioco secondo me un pochino di più lì davanti con Ronaldo pronto a buttarla dentro invece i ruoli si erano un attimino invertiti sembrava Ronaldo quello che creava più gioco e Krusevski che a me molte volte non gliela passavano non capisco il perché che comunque aspettava il pallone però è stata una bella Juve nel concreto devastante più che bella è proprio stata devastante e niente ragazzi attivate la campanellina mettete mi piace Ciari vi saluta perché ha messo 4-0 segnato Suarez in questo momento lui mi sta sentendo ma io no fate i bravi perché tra un po' usciranno ritornaranno i video dalla mia cameretta per un po' poi mi risposterò detto questo lasciate un mi piace ciao